Musica Chiude all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela il reparto di malattie infettive per carenza di personale medico. Otto posti letto che sono stati accorpati al reparto di medicina. I casi più gravi vengono dirottati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove c'è un reparto, l'unico in tutta la provincia di Caltanissetta, che dispone attualmente di 10 posti letto. Il nursing del sindacato degli infermieri per protestare contro quello che considera un altro scippo alla sanità gelese ha organizzato questa mattina un sit-in proprio davanti al piazzale antistante all'ospedale di Gela. L'unico medico che prestava servizi è andato in pensione e la direzione sanitaria non ha potuto fare altro che chiudere il reparto. Il motivo della protesta è la chiusura del reparto di malattie infettive, quindi siamo qui per dire il nostro basta a questo continuo scippo nei confronti della sanità gelese. Sappiamo che il management aziendale si è mosso aprendo dei bandi, però comunque la programmazione secondo noi non è stata buona. Sicuramente il direttore di presidio, il dottore Fiorella, si è speso tantissimo per questo problema coprendo lui stesso i turni mancanti dei medici, però nonostante ciò siamo arrivati al punto della chiusura del reparto. La direzione generale si era attivata per cercare di reperire personale medico specialistico a fine, ma è pur vero che si è mosso con grave ritardo, noi accusiamo questo, il grave ritardo che poi effettivamente alla fine ha portato alla chiusura del reparto. Bisogna sottolineare l'operato del direttore sanitario del presidio ospedaliero che più volte, indossando il camice, è andato a sopperire alle carenze organiche. Al giorno d'oggi il reparto di malattie infettive è chiuso, che ne dica l'azienda, che i pazienti vengono spostati in medicina, ma non è così, perché per le patologie diffusibili è previsto il trasporto in altri nosocomi, precisamente presso il Sandelia di Caltanissetta. La protesta è rivolta un po' a tutti i capoccia che abbiamo, perché a questo punto ci sentiamo presi per puntini e puntini, per puntini e puntini. Io ho lottato, non io ho lottato per carità, io l'ho fatto con tutto il cuore, avendo vissuto un'esperienza del genere per ben 22 anni, che ho avuto un marito malato di cirrosi epatica, trapiantato, con tanti problemi, quindi la cosa mi brucia, ancora più di come se ci fosse mio marito, perché io vedo questi poveri sventurati, c'è chi ce l'ha un parente, qualcuno che si interessa, e chi non ce l'ha, dove deve sbattere le corlici? Siamo qui in via Rio de Janeiro, uno dei quartieri in cui è stata posizionata l'isola ecologica presidata con un infopoint per accompagnare la città tutta, che ha utilizzato fino a oggi quest'area come una discarica a cielo aperto, appunto per accompagnarli in un processo migliorativo di differenziare. Da oggi vige il nuovo calendario, ridisegnato per migliorare, per rendere più semplici le operazioni di differenziazione dei rifiuti, plastica e metalli in un unico sacco, che è quello giallo che solitamente veniva utilizzato per la plastica, il vetro nell'apposito contenitore che è in via di distribuzione, qualora non lo si fosse ricevuto, si può ancora utilizzare il carrellato di prossimità, in attesa appunto che tutti i quartieri vengano raggiunti alla distribuzione del kit. Nessun stravolgimento sui calendari, un giorno in più per l'umido, il sabato cercando di agevolare il cittadino che ha la necessità, soprattutto nel nostro territorio, di non avere rifiuti malodoranti a casa, per contro la riduzione ad un giorno del secco residuale. La motivazione sta nel fatto che, differenziando correttamente, il secco residuale rappresenterà un sacchetto non più grande di un sacchetto della spesa, con rifiuti che non sono malodoranti perché appunto sono secchi residui e quindi possono rimanere tranquillamente una settimana a casa, in attesa del martedì in cui verranno ritirati. Ricordo a tutti che vige l'obbligo di non utilizzo di sacchi neri o che non permettono la facile indirizzazione dei rifiuti. Diciamo che questa settimana si avrà un po' di tolleranza, dalla settimana successiva quei sacchi verranno automaticamente multati perché c'è l'obbligo di lasciarli in prossimità del numero civico, per cui ogni cittadino deve attenersi alle regole stabilite dall'ordinanza sindacale e dai volandini che sono stati distribuiti in maniera massiva presso tutti i numeri civici e comunque presenti negli infopoint dove le ragazze della Tecra sono disponibili a dare tutte le informazioni e a recuperare eventuali lamentere su disservizi o quant'altro. Pannolini è un servizio dedicato a chi ha necessità specifiche, quindi perché ha dei neonati o degli indigenti a casa, basta che chiami il numero verde della Tecra, indichi le proprie esigenze, il numero civico e ci sarà quindi questo servizio dedicato con il ritiro porta a porta quotidiano. Già 125 famiglie ne fanno uso, quindi non abbiate timore, il numero verde della Tecra è disponibile per qualsiasi esigenza, il personale del Comune e della Tecra è disponibile a dare tutto il supporto affinché in debbi brevi si raggiungono obiettivi ambiziosi sulla quota di differenziata raggiungibile in questa città. Il Cresamer Festival prima di tutto è uno spettacolo, uno spettacolo bellissimo dove abbiamo un po' di tutto, abbiamo un corpo di ballo, cantanti, attori, un'orchestra dal vivo, abbiamo tutto e soprattutto è adatto alle famiglie, dai più piccoli che hanno tre anni fino ai più grandi che hanno oltre 60 anni. Ogni spettacolo che organizza Gela per me è un onore e soprattutto una scommessa perché in questo periodo organizzare spettacoli è difficile, però devo dire che sto avendo la partecipazione di tutti i gelesi a partire dalla scuola di ballo, di Laura Villareale a finire, commercianti di Gela, è una cosa davvero bellissima che tutti si stanno unendo e secondo me l'unione fa la forza e in questo momento mi stanno appoggiando tutti quanti dall'amministrazione comunale ai commercianti di Gela e questo qua fa onore ai cittadini gelesi e soprattutto vorrei dire a tutti quelli che ci stanno vedendo che è vietato mancare perché abbiamo di tutto, abbiamo degli acrobati, ballerini, cantanti, attori, c'è tutto. È un'iniziativa, forse la più grande iniziativa che stiamo facendo d'estate con l'aiuto di Andrea Infurna che ormai è diventato un personaggio famoso a livello nazionale, uno spettacolo in piazza giorno 19 agosto 2016 alle ore 21.30 circa e ci sarà questo grande evento che coinvolgerà talenti gelesi e Andrea Infurna. Il costume da bagno è forse l'emblema dell'estate e delle vacanze, ricorda il mare, il dolce far nulla e i viaggi. Per gli uomini esistono un po' meno varianti, mentre gli stilisti sbizzarriscono maggiormente la loro fantasia per quelli femminili. C'è il più casto costume intero, il due pezzi e persino il trichini, in cui la parte superiore e quella inferiore sono levemente legate. Siamo sicuramente ben lontani dai costumi usati nell'Ottocento in cui le donne arrivavano al mare con dei pantaloni sino al polpaccio e abiti sino al ginocchio. Allora la bronzatura era persino considerata volgare. Oggi invece non bisogna aver paura di mostrare il proprio corpo. Dopo aver superato ovviamente la traumatica fase di inizio estate della prova costume. Non sempre le donne riescono ad affrontare il momento sentendosi completamente bene con se stesse. Ed ecco che cominciano le diete dell'ultimo minuto per perdere quei chili di troppo. Importante è sicuramente scegliere il costume giusto, che segua non soltanto le tendenze ma che sia più adatto alla propria figura. L'estate 2016 è sicuramente frizzante e allegra. Sono infatti il colore e le fantasie i veri protagonisti spiaggia. La tendenza moda di quest'anno è il fiore, il fiorato. Però devo dire che non si sta vendendo tanto perché la cliente sia giovane che meno giovane preferisce le fantasie un po' orientali, le fantasie geometriche. Il fiore diciamo che ancora non decolla. Anche se quest'anno diciamo appunto c'è stato tanto fiore. La donna matura preferisce naturalmente la mutandina alta con delle marche un pochino rinomate, delle marche un po' con le coppe conformate. Mentre la ragazza dal tanchini, dal bichini, dal brasiliano e così via. Come costume mi piace tanto il due pezzi. Blu elettrico, sull'arancio, anche rosso se è possibile. Anche il verde. Comunque questi sono i colori che secondo me dovrebbero andare più di moda. Mi piace, insomma, stare alla moda. Essere alla moda secondo me è una cosa canina. Preferisco sicuramente il bichini. Colori... Ma io in realtà preferisco il colore scuro nei costumi. Poi magari qualche variante di colore, però sono un po' più tradizionale. Molto sobria come tendenze mie. Quello che mi fa stare bene mi metto. Se non mi ci vedo non lo metto. La Commissione Consiliare Ambiente e Sanità di Gela intende approfondire la vicenda e valutare le reali intenzioni della direzione strategica al fine di poter contribuire con ogni mezzo affinché ciò non avvenga. Riteniamo che un comprensorio come quello di Gela non possa perdere le parti che si sono distinti in passato per l'alto profilo sia in termini di casistica di profitto per professionalità rappresentando un fiore all'occhiello della sanità locale. Gela e i cittadini non possono continuare a vedersi sottrarre importanti servizi senza una giustificata o quantomeno chiara motivazione. Lo dice il Presidente della Commissione, il Consigliere Virginia Farruggia, che ha partecipato al sit-in organizzato dal sindacato infermieristico Nursind e dalle associazioni che operano all'interno della struttura ospedaliera per accendere riflettori su un altro potenziale furto reso ai servizi sanitari locali in danno dei cittadini gelesi. La Commissione Ambiente e Sanità aveva incontrato a Caltanissetta la direzione strategica il 21 luglio scorso per discutere tra gli altri delle criticità del reparto di malattie infettive e in quella sede, dice Farruggia, abbiamo appreso del disagio relativo al reparto per la carenza di organico e della volontà della direzione di sfruttare il momento critico per la mancanza del personale, nonché i mesi estivi, per effettuare il trasferimento dello stesso dal quarto piano al primo che attualmente ospita il reparto di UTIC provvisto di scarichi indipendenti così da garantire una corretta espletazione dell'assistenza ai cittadini. Dopo però abbiamo saputo della volontà di chiudere il reparto. Come Commissione Ambiente e Sanità, Rimarca Farruggia, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che sia stato solo un momentaneo spostamento di reparto per far sì che i malati potessero ricevere più assistenza vista l'inadeguatezza dello stesso, nonché per sopperire alla carenza di personale medico, ma rimaniamo ugualmente guardinghi e aspettiamo soluzioni più adeguate. Avendo appreso inoltre dello sblocco dei concorsi alla Regione Siciliana, speriamo di poter valorizzare tutti i reparti e non solo quello di malattie infettive, attraverso la presenza di professionalità che oggi si sentirebbero mortificate da contratti precari e infrastrutture carenti. Ad oggi però rileviamo l'assenza di notizie circa il trasferimento dei due reparti in questione. Inoltre ci chiediamo come sia possibile, attraverso la mobilità interna, far prestare servizio a mazzarino ai nostri anestesisti e invece chiudere un reparto così importante a Gela, pur avendo quattro medici infettivologi a Caltanissetta, che potrebbero sopperire ai disagi che attraversa il reparto per la carenza di organico. La Commissione inoltre si dice dispiaciuta per non avere visto ieri nessun rappresentante dall'amministrazione presente alla sitina per manifestare il dissenso per i potenziali scenari, dopo soprattutto avere fatto una guerra senza criteri che aveva tutte le caratteristiche di un conflitto politico legato alla persona piuttosto che un'azione volta al miglioramento della sanità locale. Siamo certi, chiude la nota, che la direzione strategica attiverà ogni possibile soluzione per scongiurare la chiusura del reparto di malattie infettive e continuerà a lavorare nella direzione giusta per garantire servizi sanitari efficienti ed eccellenza al nostro territorio in attesa da troppo tempo. La Commissione, i sindacati e le associazioni lavoreranno in sinergia per dare un contributo fattivo, come è stato fino ad oggi, alla direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. E' tornato un momento alla carica chiedendo interventi al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consigliari in merito alla vicenda Cartodromo, Palalivatino e Parco di Montelungo. Lui è Gatano Minardi, segretario gelese di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Aveva già scritto lo scorso 29 giugno, ma non ha avuto alcuna risposta in merito. Minardi sottolinea lo stato di abbandono e degrado in cui versano i tre spazi sportivi e naturalisti. Le opere sono oramai divenute luogo di discarica abusiva di materiali di qualsiasi genere ed in particolare di amianto. I rappresentanti delle istituzioni comunali di Incare Minardi devono attivarsi al fine di provvedere alla bonifica dei siti con particolare attenzione alla rimozione e smaltimento dello stesso amianto. Le tre strutture sono di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, ex provincia regionale, ma il sindaco continua ancora il segretario di Fratelli d'Italia, attivando i poteri che la legge gli conferisce a tutela della salute e dell'igiene pubblica, può adottare i provvedimenti urgenti e necessari per garantirne la sussistenza. Inoltre, in considerazione della grave crisi economica, sociale e industriale in cui versa la comunità locale, Minardi invita il primo cittadino e le istituzioni ad attivarsi e o attivare tutte le procedure e i canali politico-istituzionali necessari al fine di acquisire al patrimonio comunale il cartodromo, il paralivatino e il parco di Montelungo. La discussione, se necessario, potrà essere portata in consiglio comunale o alle conferenze dei servizi. La valorizzazione e la riorganizzazione di questo immenso patrimonio potrebbe costituire un importante volano di ripresa e di sviluppo economico per il nostro territorio, continua Minardi e rilanciarne la stessa immagine. Il cartodromo di Contrada Zai è unico nel suo genere in tutto il mezzogiorno d'Italia per caratteristiche e grandezza. Il parco di Montelungo è stato sede di un campo di tiro a piattello e di una pista di motocross inseriti nel circuito delle gare nazionali mentre il palalivatino, al di là della sua attuale destinazione di Geminardi potrebbe essere trasformato in una piscina pubblica coperta. Arte e cultura, azioni di promozione sociale e territoriale appaiono spesso concetti distanti, a volte declinati con inefficacia pesantezza o difficilmente fruibili a tutti, in una ipotetica condizione di assenza di peso invece pur mantenendo inalterata la propria importanza essi sono più facilmente afferrabili e godibili. Arte, cultura, promozione sociale e territoriale a gravità zero. Nasce a Gela con questo spirito l'associazione di promozione sociale gravità zero. Cercheremo di fare delle azioni in cooperazione con gli enti territoriali e le altre associazioni, anche perché il terzo settore è un settore molto fertile in questa città e in questo territorio, anzi è stato quel settore che è stato da Traino a tutte le iniziative positive che sono state fatte qui. Spesso si parla di ciò che non va a Gela, invece le associazioni sono ciò che invece va, ciò che c'è di positivo. Quindi io credo che la nascita di una nuova associazione dia un impulso alla valorizzazione di questo aspetto e in più collaborando insieme con le altre associazioni credo che in futuro potremo fare degli eventi di qualità e dare comunque delle risposte a una domanda che c'è di culture, di arte e di promozione territoriale. Gravità zero incarna la voglia di mettersi in gioco, la volontà di essere utili a una città e a un territorio. Lo spirito della associazione ha in sé il valore della valorizzazione del collettivo e della collaborazione. Partendo dall'esperienza di Gela in Art, manifestazione giunta alla seconda edizione, l'associazione farà dal confronto con gli altri attori sociali un valore irrinunciabile. Quest'anno però con gli organizzatori dell'anno scorso abbiamo deciso praticamente di federarci, diciamo di costituire proprio un'associazione, un'associazione di promozione sociale che ha come scopo quello appunto di valorizzare l'arte e la cultura e il grosso patrimonio umano formato dalle associazioni, quindi dalle tante associazioni che nel territorio svolgono un ruolo sociale importantissimo al fine appunto di creare proprio un vero e proprio volano allo sviluppo, a un nuovo sviluppo sostenibile diciamo della città attraverso appunto la valorizzazione delle proprie risorse territoriali. Abbiamo pensato di ridare fiducia agli organizzatori per rifare insomma questa bella manifestazione che coinvolge il centro storico e ci dà un tocco di bellezza all'interno del centro storico di Gela. Gela in Arte quest'anno si arricchisce intanto di tante collaborazioni come della SMAF presieduta da Gaetano Rizzi, come la Ginnastic Club del professore Walter Micichè, come il piccolo teatro Città di Gela del professore Pardo, come il giardino delle Muse di Ersilia Spadea. Un connubio d'associazioni che il 27 agosto arricchiranno il nostro corso, tanti ginnasti, tanti attori, pittori che arricchiranno veramente Gela, Gela ha bisogno di queste sfumature. Botta e risposta fra la Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale presieduta da Cristiano Malluzzo e il gruppo di lavoro per il porto. La Grel nasce dalla richiesta avanzata dalla Commissione di cancellare il gruppo di lavoro perché è stato costituito ancora prima che venissero formate le commissioni. I rapporti istituzionali, sostiene la Commissione, devono essere mantenuti da noi. Questo gruppo di lavoro non ha più motivo di esistere. Immediata, come dicevamo, la replica di alcuni componenti del gruppo di lavoro, nonché componenti del comitato per il porto di Gela. Non capisco perché l'eliminazione di questo tavolo da lavoro a chi dia fastidio e perché sta dando fastidio. Mi stranizza che questa eliminazione arrivi proprio adesso che abbiamo concluso quasi tutto e quindi abbiamo portato un buon risultato e subito dopo il discorso del project financing a cui ci siamo, diciamo, opposti un po' tutti. Quindi mi è strano che dei consiglieri arrivano e propongono l'eliminazione di un gruppo di lavoro che va cancellato addirittura in quanto inutile, che non serve più. Anche se secondo me non è per niente inutile, ha senso di esistere fin quando a Gela esisteranno i porti. A prendere le difese del gruppo è stato anche il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia, la quale, nell'elogiare l'operato svolto fino ad oggi dallo stesso gruppo, ha sottolineato che la sua costituzione è stata voluta dall'assise civica e oltre a far parte del gruppo alcuni operatori del settore, ne fanno parte anche alcuni consiglieri comunali e i deputati del territorio. Pertanto, dice, il gruppo non si tocca. Noi abbiamo lavorato un anno e mezzo per l'interesse della città, a spese nostre autotassandoci e oggi che siamo arrivati quasi al traguardo c'è l'interessamento di questi politici, ma che vogliono fare, che cosa vogliono fare, non lo stiamo capendo, che interessi hanno. Nel gruppo di lavoro sono presenti diverse forze politiche, le maggiori forze politiche rappresentate nel Comune di Gela, ma non hanno mai manifestato una fase di campagna elettorale del gruppo. Abbiamo lavorato sempre in sinergia, quindi non capiamo perché. Se c'è qualcuno che ci deve remare contro, che venga e ce lo venga a dire. Noi faremo di tutto, di tutto per arrivare al nostro scopo, cercare di riportare un borto a Gela. Siamo stupiti perché il nostro gruppo di lavoro alla fine è l'unico tavolo di concertazione vero che c'è all'interno del Comune di Gela. Ribadiamo che è a costo zero e se facciamo il paragone con le varie commissioni, compreso quella urbanistica che sono presenti al momento, abbiamo portato un risultato che non è paracolabile a nessuno. C'è la conclusione di un iter dopo 40 anni per il porto rifugio di Gela. Secondo me l'attacco è più politico perché si riferisce magari all'attacco che abbiamo fatto noi, che volevamo essere messi al corrente sul project financing, che anche quello ci stupisce perché davanti a tutti il sindaco ha dichiarato che erano solo chiacchiere e poi viene smentito di nuovo dal vice sindaco l'indomani. Per la prima volta forse li vediamo separati questa amministrazione siciliano-messinese. Si sono dati appuntamento in via Rio de Janeiro, nel quartiere Scavone a Gela, nei pressi dell'isola ecologica. Loro sono il sindaco di Gela, Domenico Messinese, il suo vice Simone Siciliano e il segretario della CGL Ignazio Giudice. Proprio l'esponente sindacale ieri aveva bacchettato l'amministrazione sottolineando che nella normalità serve un po' di logica che chi amministra dovrebbe possedere e quindi usare. Giudice aveva riferito che la raccolta differenziata è giusto farla, adoperarsi per migliorarla, sanzionare chi non la fa, ma aveva anche riferito che il kit, il grande assente, questa star che dovrebbe arrivare ma non arriva, non è normale non consegnarlo prima della rimodulazione. Ieri ho incontrato personalmente il proprietario della Tecra e anche il vice sindaco siciliano che mi hanno promesso e quindi l'hanno promesso alla città e ai cittadini che la differenziata diventerà un progetto culturale a quale tutti dobbiamo credere ma i cittadini devono essere messi in condizione di differenziare avendo il kit. Non può il comune addirittura elevare le sanzioni a 125 euro a chi non fa la differenziata senza dotare tutte le famiglie già lesi di kit e siccome i kit indagamente arriveranno tra settembre e ottobre la Cigella ha chiesto che in questo momento nessuna multa venga levata ai cittadini, sarebbe veramente una ingoerenza istituzionale che credo nessuno con un po' di buonsenso e umiltà si può permettere. Noi crediamo che il cambiamento è possibile e noi crediamo anche che la maggioranza dei cittadini è pronto a differenziare. Quella minoranza che vuole invece vivere l'ingiviltà va rieducata, va convinta che l'ambiente è di tutti e quindi va solo guardato. Stiamo giustamente verificando come sta andando la distribuzione sia dei contenitori per il vetro che è uno strumento necessario proprio per consentire la sicurezza come viene conferito questo materiale ma anche la distribuzione dei sacchetti e dei volantini che spiegano come poter fare la raccolta differenziata. Perché l'informazione credo sia la cosa più importante, non vogliamo fare gli sbagli che hanno fatto precedentemente dove dall'oggi al domani si cambia tutto. In realtà noi abbiamo messo già notate che era l'8 agosto, l'avevamo annunciato già da due settimane, ci sono queste altre settimane fino a dopo a ferragosto per cominciare alle persone ad avere le risposte per i propri dubbi. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a migliorare il servizio e dare più decoro alla città. Grazie a tutti!